Albano rompe il silenzio dopo il drammatico episodio. Non le passi bene. Le sue condizioni Il celebre cantante di Cellino San Marco torna a parlare dopo il drammatico annuncio di pochi giorni fa. Albano Carrisi dice tutta la verità sulle sue attuali condizioni Momenti di grande apprezzione per tutti i fan del famosissimo artista pugliese. Albano Carrisi alcuni giorni fa, ha dovuto dare l'annuncio che nessuno voleva ricevere, e lo ha fatto sui social Sulla cresta dell'onda da più di 50 anni, raggiunge il successo nella seconda metà degli anni Sessanta, dopo anni duri in seguito al suo trasferimento a Milano dalla nati a Cellino San Marco Nel 1967 l'incontro destinato a cambiargli la vita, quello con la sedicenne Romina Pover, figlia delle superstar Hollywoodiane Tirone e Linda I due giovanissimi si innamorano follemente, e nel giro di appena tre anni convolano a nozze e diventano genitori. Una relazione inizialmente osteggiata dai genitori, preoccupati dalla loro età In realtà la coppia formerà, anche un sodalizio artistico, diventando famosissimi e il simbolo della felicità coniugale Una felicità, purtroppo, che si arresta nel 1999, anche a causa della scomparsa della primogenita Ilenia nel 1993 Da allora il cantante si è dedicato alla carriera solista, prima di tornare ad esibirsi con l'ex moglie in alcune occasioni speciali Albano e il grande evento annullato all'improvviso Proprio in occasione di fine anno 2021, l'artista avrebbe dovuto presenziare alla grande manifestazione organizzata da Mediaset, Capodanno in Musica Tutto, però, è purtroppo saltato all'ultimo momento Lo scorso 29 dicembre, infatti, Albano ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e pertanto si è dovuto mettere in quarantena come da disposizioni sanitarie Dicendo quindi addio alla serata che lo avrebbe visto tra gli ospiti d'onore di Canale 5 Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito Aveva detto Ma come sta ora il cantante? Carrisi lo ha rivelato lui stesso durante un'intervista rilasciata a fanpage Grazie a Dio sto bene, il virus è arrivato, ma fortunatamente con la terza dose non me ne sono neanche accorto Mi hanno avvisato che ero positivo, ma fortunatamente esiste il vaccino I fan possono tirare un sospiro di sollievo Albano, la verità sul rapporto con Romina Pover oggi Tempi impegnativi per Albano Mentre i rapporti nella famiglia allargata di Cellino, fanno di nuovo scintille Una rivelazione sui rapporti con Romina sconvolge i fan Albano, Loredana Lecciso, Romina Pover Un triangolo di sentimenti passati e presenti che non cessa di creare agitazione nei fan di Albano E presumibilmente anche nel cantante di Cellino San Marco, al centro dell'agitazione di due donne troppo vicine Anche Romina abita a Cellino, in una lussuosa villa, e dal carattere non facile Un Albano già sotto stress per la partecipazione al programma di Millie Carlucci si è lasciato scappare Una scottante verità, che ha lasciato sconvolti i suoi fan Non so ballare, giusto qualche Valzer ha sempre detto Albano, preoccupato di di risultare comico, in mezzo a tanti provetti ballerini Una preoccupazione che lo ha in seguito costretto al ritiro Quello di cui il cantante non aveva bisogno, proprio in quel momento, era il riaccendersi del conflitto tra la ex moglie americana e quella attuale, pugliesissima come lui Dopo una lunga storia di conflitti tra loro, e poi anche con Albano, tra le due donne sembrava essere scoppiata una pace almeno temporanea Una boccata d'ossigeno per lo showman di Cellino Ma Loredana Lecciso ha voluto suggellare a modo suo il momento di pace Appena ricostruito il rapporto con Albano dopo il burrascoso recente passato, la giornalista showman ha sparato una serie di proiettili incendiari che Romina, comprensibilmente, ha interpretato, come diretti a lei Basta! Non permetterò più a nessuno di intromettersi nella nostra coppia Un invito che Romina ha prontamente raccolto, facendo le valigie e affittando una villa a un'ora di distanza, lontana sì, ma non troppo Di fronte a riaccendersi del conflitto, che rischia di coinvolgerlo ancora una volta, Albano ha lanciato un grido disperato Albano! Basta guerre! Mentre cercava di concentrarsi senza successo sulle nuove sfide danzanti Albano ha rilasciato un'intervista con il tono di una preghiera verso le due bellicose donne. Basta guerre, ha detto E, cercando di tranquillizzare l'alecciso, ha voluto tornare sui suoi rapporti attuali con Romina, così urticanti per l'attuale moglie Io e Romina siamo come due fratelli. Tra noi c'è solo e soltanto lavoro Una vera offensiva di pace. Ma anche la classica excusatio non petita Sarà riuscito il nostro eroe a calmare la focosa loredana? C'è da sospettare che nemmeno questo gira di danza, abbia portato ad Albano il successo sperato